Oggi vi propongo i soffici e profumati pancake all'arancia. Ragazzi, credetemi, sono deliziosi per una colazione meravigliosa, senza puro, senza latte, ma profumati con succo d'arancia, che li rende davvero buonissimi. Due uova medie, tre cucchiai di zucchero, che potete sostituire se volete con il doccificante. Lavorate benissimo le uova con lo zucchero. Poi versate 200 ml di succo d'arancia. La buona riuscita di questa ricetta dipende ovviamente anche delle vostre arance, quindi usate arance dolci, arance buone. Due cucchiai di olio di semi di girasole. Lavorate benissimo il tutto e versate un cucchiaino abbondante di lievito per dolci vanigliato. E poco per volta vado a versare anche 200 g di farina 00 di grano tenero. Ragazzi, il gioco è fatto. Il composto super cremoso per i nostri pancake. Quindi corriamo ai fornelli, perché ci servirà una padella ben calda, unta senza olio in eccesso, oppure se volete potete utilizzare il burro. L'importante è che è solo unta. Versate anche circa 30-35 g di gocce di cioccolato e prepariamo insieme i nostri pancake soffici all'arancia. Quando la padella è ben calda, facciamo cuocere i nostri pancake. Quando iniziano a formare i classici buchetti, li giriamo dall'altro lato e li facciamo cuocere anche dall'altro lato. Potete accompagnare i vostri pancake con il miele oppure con la frutta fresca. O se vogliamo fare uno strappo alla regola, li mangiamo con la nutella. Bastano proprio pochissimi minuti per prepararli e vi lascio solo immaginare quanto sono buoni, ragazzi, e soprattutto soffici e profumati. Quindi provate anche voi i pancake all'arancia. E se li provate, mi raccomando, lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Guardate, sono super soffici. Vi aspetto sul mio canale YouTube Cartesia. Iscrivetevi e attivate la campanella. Perché se attivate la campanella, ogni volta che pubblico un video, vi arriva subito la notifica. E quindi non perderete più neanche una videoricetta super golosa. Ragazzi, vi mando un bacione grande grande e ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao!